Raffa Leao numero 10 al Milan sta avendo una difficoltà un po' nella gestione dell'allenatore, un po' nella continuità, un po' nel ciondolamento, ma gli ho visto fare bene due partite sulle nove stagionali e mi aspetto di più da un giocatore che amo follemente e quindi vorrei vederlo più partecipativo. Poi però mi ricordo come Milan ha vinto lo scudetto e Raffa Leao non era marcabile, non era prendibile, non era giocabile e oltre a fare le azioni classiche che fa sempre le sue serfate faceva pure dei gol, alcuni pure molto pesanti. E l'ho rivisto ieri, l'ho rivisto ieri in Polonia-Portogallo quando al minuto 59 ha deciso di prendersi gioco di una nazione intera e di marcarli tutti. A un certo punto è partito da sinistra davanti diciamo al guardavide numero due per chi capisce un po' di cose arbitrali, ha saltato tre avversari poi ne ha saltati due, gli è arrivato un sesto disperato e ha riaccelerato dopo aver frenato, dopo aver fatto 60 metri marcando cinque persone. Ha messo la palla e ci ha detto che Bruno Fernandes non ha messo in porta perché sarebbe stato l'assist più bello del 2024. Allora, quello che voglio dire è, siccome più che l'azione ho notato quando poi si è fermata e ho visto il replay, che comunque è nazionale gioca ancora con la 17 perché lì c'è la Bernardo Silva, autore dell'1-0, il suo assist di Bruno Fernandes. E se riprendesse la 17 l'anno prossimo? E se fosse che quella maglia come la 9 del Milan pesa e la 10 del Milan pesa? E se magari ho visto, non lo so, ho visto il Rafaleao in quell'azione del 2022. E aveva la 17. Io sono pazzo di quello lì, quello lì voglio vedere, quello lì è un mostro ragazzi. E ve la giro così, ve la giro così, non sarà che in questo momento si diverte più a giocare col Portogallo che col Milan. Ma detto che il layout degli europei non era proprio il ritratto dell'entusiasmo. Però non l'ha fatto male. No, non l'ha fatto male, ma non l'ha fatto Però sapere che esce uno di, cioè uno di quarant'anni già ha un attimo dei giochi sessanta, ha segnato, sai come ha segnato? Sì, l'ho visto con Portavuota, Tapin. No, Tapin di Leao che dribbla 5, sinistro, palo, Ronaldo a Portavuota, il gol è di Leao, non è di Leonardo. Vai glielo a dire, va glielo a dire, c'è un quadernino con i numeretti, va bene, però vai, pietà.